Primo tempo che si chiude positivamente uno sbarione di Scesni, una grande papera, meno male la Juventus ha saputo reagire Ezio, no? La miglior Juve di stagione, complimenti per la serietà, per l'impegno, per la reazione, per questo primo tempo afflittivo per l'Atalanta, noi speriamo che alla fine produca una vittoria che sarà comunque fittizia perché questa è la prima di 20 inutili partite di un destino ormai segnato. Però la domanda mi viene spontanea per chiudere questo breve video, ma ci vogliono punti di penalizzazione, ci vogliono schiaffi sulla faccia perché la Juve gioca in questo modo, perché voglia chiudere come è stato detto la partita prima, probabilmente lascio a voi la risposta. Ci vediamo con il video alla fine della partita.